Si incontravano da volano a qua, ritenessero che è uno strumento importante, è ben diverso se è tutto un territorio, un arco regionale che dice io rispetto a questo strumento vorrei che diventasse uno strumento di sviluppo, è chiaro che lo può essere, questo ormai è un dato scontato, è chiaro che l'altra via è nell'immaginario ma ancora non vive nel modo giusto perché ci sono tanti piccoli tentativi positivissimi ma che non sono coordinati da volano a ventimiglia sono coordinati se già va benissimo su una microarea per cui gli eventi nascono in alcune aree ma non nascono in altre, per cui alcuni percorsi sono ben strutturati in alcuni punti in altri magari qualcosa si potrebbe fare, per cui la ricettività in alcune aree è facilissima in tutte le stagioni dell'anno, in altre situazioni non lo è, per cui mangiare è facile in alcuni posti in altri posti non lo è sempre, perché l'immaginario è dentro te, la ragione che da giugno in avanti è organizzata per pensare di avere i numeri, per poterlo essere e nelle restanti stagioni non è così organizzata, quindi ha bisogno di essere rivisitata con questo è uno sforzo e questa è la cosa che noi crediamo che in un progetto si possa fare perché lo sforzo è veramente piccolo rispetto a certi progetti di finanziamento che si possa utilizzare perché la grande ossatura, le grandi cose ci sono, basta solo, come dire, sistemarle bene e mettere tutti, è come se fosse una sorta di puzzle, no? in cui hai costruito un po' di pezzi, ti mancano delle tessere, quelle tessere le stai ancora cercando ma sono solo più poche tessere che sono da mettere in ordine, perché il grosso del tuo puzzle l'hai fatto allora, se mettiamo a posto queste tessere, coinvolgendo le persone giuste, tutti gli operatori giusti tutti quelli che ne fanno parte, diventa un lavoro, un sistema, diventa un progetto sistema che non è e che non deve essere solo di sviluppo economico, certo che parte da lì perché è come dire la chiavetta da cui puoi far partire le cose, ma se diventa un progetto di sviluppo economico diventa anche un progetto di sviluppo sociale, perché sul territorio, perché la gente ci abiti bisogna poter dare servizi e bisogna poter dare tutta una serie di cose servizi e altri, questi elementi di qualità della vita, ce li hai solo se i numeri iniziano a cambiare